Se non stai riuscendo a manifestare quello che desideri, molto probabilmente non stai facendo le azioni giuste. E prima di scatenarvi nei commenti, guardate questo video fino alla fine. Bentornati sul mio canale, io sono Eris e sono la coach di manifestazione. Se hai difficoltà a manifestare oppure semplicemente ti interessa questo argomento, iscriviti a questo canale e lascia anche un like al video. Perché non parliamo solo di manifestazione, ma anche di crescita personale, spiritualità, autostima e tantissimi altri argomenti. Nel video di oggi vi spiego per quale motivo non state riuscendo a manifestare quello che desiderate, quali sono le azioni da fare per ottenere il vostro desiderio e soprattutto come riuscire ad ottenerlo molto molto velocemente. Perché come dico sempre, la manifestazione è una cosa istantanea. Basta fare veramente così e otteniamo quello che vogliamo. Le cose che ci bloccano sono tutte cose che noi abbiamo a livello inconscio e sono le cose che noi tendiamo ad osservare. Quindi mi raccomando, tenete a mente questo. La manifestazione è istantanea. Tutto quanto esiste nel momento presente, dobbiamo solo imparare a guardare nella giusta direzione. Perché all'inizio del video vi ho detto prima che vi scatenate nei commenti per quanto riguarda le azioni? Chi mi conosce, chi mi segue da un po' sa che io dico sempre che non è necessario fare delle azioni per ottenere il nostro desiderio. Non c'è qualcosa che dobbiamo fare per forza per manifestare i nostri desideri. E di questo sono ancora convinta, quindi non vi preoccupate, la mia idea rimane questa. Il punto qual è? è che c'è molta confusione proprio per quanto riguarda le azioni. Perché c'è chi dice che bisogna per forza fare un certo tipo di azioni, c'è chi dice che bisogna comportarsi in un certo modo, comportarsi come se quella cosa ce l'avessi già. E questo, questo concetto in particolare, manda in crisi, in confusione tantissime persone, molto probabilmente perché spesso non viene spiegato in maniera molto chiara. E anch'io all'inizio non capivo bene che cosa si intendesse. Poi con la pratica ho trovato il mio metodo, il mio modo e in questo video voglio spiegarvelo. Dobbiamo introdurre un concetto molto molto importante, ovvero le azioni ispirate. Che cosa sono le azioni ispirate? Vi faccio questo esempio molto semplice. Se qualcuno di voi nella vita vuole fare il cantante, vuole essere un cantante famoso, quindi vuole effettivamente manifestare il lavoro dei suoi sogni, quali sono le azioni ispirate che una persona che vuole fare il cantante può fare? Prima di tutto penso esercitarsi a cantare. Perché è un'azione ispirata? Perché è una cosa che fareste a prescindere. Non è una cosa che voi fate perché devo raggiungere quell'obiettivo. Si presuppone che se uno nella vita vuole fare il cantante, vuole essere un musicista, si esercita. Perché? Perché ama quella cosa lì, ama cantare, ama suonare e quindi si dedica alla sua passione. Le azioni ispirate in breve sono quelle azioni che noi faremmo a prescindere. Sono le azioni che ci vengono spontanee. Perché faccio quella cosa? Perché fare quella cosa mi piace e mi rende felice. E oltretutto mi avvicina sempre di più al mio obiettivo, mi avvicina al mio desiderio. Vi faccio un altro esempio per farvi capire meglio. Il motivo per cui appunto io ho iniziato il canale YouTube, perché volevo portare dei contenuti su YouTube. Questa è un'azione ispirata per il semplice fatto che è una cosa che a me piace. È una cosa che io faccio spontaneamente. Non è una cosa che faccio in maniera forzata, in maniera obbligatoria. Lo faccio perché mi piace, lo faccio perché mi fa stare bene, lo faccio perché mi diverte. E queste sono le azioni ispirate. Queste sono le cose che effettivamente vi portano sempre più vicini al vostro obiettivo. Quando pensate di dover fare qualcosa invece per forza, che può essere anche una tecnica di manifestazione, quindi devo per forza fare il metodo 369. Se non conoscete il metodo 369 ci ho dedicato un intero video che vi lascio qui sopra. Devo fare per forza questa tecnica, devo fare per forza le affermazioni, devo farle in questo modo. Quelle non sono azioni ispirate perché non sono cose che vi divertono mentre le fate, non sono cose che vi fanno piacere in quel momento se vi sentite obbligati a farle. Il motivo per cui invece le tecniche funzionano bene quando utilizzate correttamente è proprio perché sfruttiamo al 100% il potere di una tecnica di manifestazione perché ce la godiamo, perché in quel momento ci divertiamo, perché nel momento presente fare quella tecnica di scripting, fare quelle affermazioni o fare quella visualizzazione ci fanno stare bene con noi stessi, ci fanno provare sensazioni positive. Quindi in quel caso è un'azione ispirata. Io poi vi ripeto, sono fermamente convinta del fatto che non servano delle azioni pratiche nel 3D per manifestare quello che desideriamo. Tutto quello che dobbiamo fare è seguire le azioni ispirate. Voglio fare il cantante? Mi esercito a cantare, pubblico le mie canzoni. È normale, sono cose che facciamo però a prescindere, sono cose che facciamo perché ci fa piacere, non perché ci sentiamo obbligati. Una cosa che ci tengo particolarmente a smontare, soprattutto sull'argomento della persona specifica, è quando si dice devi comportarti come se ce l'avessi già. Ok? E quindi quando manifesto una persona specifica che cosa devo fare? Devo fingere di essere fidanzata? Devo comportarmi come se fossi fidanzata? Che vuol dire? Adesso ve lo spiego. Il punto non è fingere, perché quando fingiamo noi possiamo dire quanto vogliamo, sì, la nostra mente si fa condizionare, certo, ma non così tanto. Quando fingiamo e sappiamo che stiamo fingendo, la nostra mente lo sa. È diverso dal fare delle affermazioni che magari in quel momento non ci risultano al 100% credibili, ma a forza di ripeterle, quel concetto lo facciamo nostro. Ripetere quell'affermazione in quel momento ci fa stare bene, e quindi la nostra mente si concentra sulla sensazione che stiamo provando e riesce a dare per vera molto più facilmente l'affermazione che noi stiamo facendo. La cosa che ho riscontrato molto spesso è che le persone, e io in primis, a fingere di fare qualcosa vanno ancora più in crisi, perché nel momento in cui devo fingere di stare con la mia persona specifica, devo fare finta, a me personalmente pesa molto di più, sento molto di più la mancanza e sento molto di più l'assenza di quella persona o di quel desiderio. Quindi è diverso dal fingere, ok? Non si tratta di fingere, si tratta di sentirsi come la persona che ha già quella cosa. E quello è un altro discorso. Dobbiamo fare nostra la tranquillità che avremmo se quel desiderio fosse già nostro. Quindi non fingere di stare con quella persona, apparecchiare per due, o mettere storie romantiche su Instagram con frasi romantiche come se fossimo fidanzati, perché non ci crede nessuno e tantomeno la nostra mente. La nostra mente crede a quello che noi sentiamo. Quando noi ci sentiamo tranquilli, e quindi riusciamo a dire, ok, io so che questo desiderio è già mio, magari non ce l'ho ancora nella realtà 3D, perché non è sbagliato dire, ok, magari questa cosa ancora non ce l'ho nella realtà 3D, ma dentro di me mi sento tranquilla, perché so che quella cosa mi appartiene, so che quel desiderio mi appartiene, so che riuscirà ad arrivare a me, so che riuscirò ad avere questo desiderio anche nella realtà 3D. Non c'è niente di male. Dovete sempre calibrarvi su quello che vi fa sentire meglio. Non ci sono delle regole specifiche per manifestare, non ci sono delle cose che dovete necessariamente seguire perché altrimenti non manifestate. No, non è così. C'è chi si sente più a suo agio a fare una determinata tecnica, a viversela in un determinato modo, quindi magari ci sono anche persone che si trovano bene con il fingere, è una cosa che gli fa stare bene, è una situazione nella quale si trovano al loro agio e riescono a manifestare così. Va benissimo lo stesso. Ognuno ha il suo modo. Trovate il vostro. Io vi posso dare degli spunti, degli strumenti, vi posso dire guardate, c'è questo modo qui, io mi sono trovata meglio con quest'altro modo qui. Ma non permettete a nessuno di dirvi devi fare assolutamente così, devi compiere assolutamente queste azioni perché altrimenti non arrivi. Perché non è così che funziona. ognuno di noi fa le regole nella sua realtà, stampatevelo nel cervello. Siete voi a fare le vostre regole. Quindi siete voi a decidere qual è la vostra strada. È ovvio che se volete raggiungere un obiettivo e quell'obiettivo è una cosa che vi appassiona, una cosa che vi piace, magari appunto è la casa dei vostri sogni, quindi che cosa fate? Cioè che cosa ti viene spontaneo fare quando vuoi manifestare la casa dei tuoi sogni? Vai a cercare quella casa, magari vai a vedere quella casa, se è una casa che esiste già, oppure ti fai un progetto di quella casa o te la costruisci su The Sims. Però sono cose che ti aiutano a indirizzarti verso quella strada lì. Perché ognuno di noi sa qual è la strada che deve percorrere. È semplicemente questione di guardarsi dentro. Fatevi un po' più di domande. Fate delle domande a voi stessi. Chiedetevi che cosa posso fare per raggiungere questo obiettivo. Che cosa mi fa sentire bene in questo momento e mi fa sentire che mi avvicino a questo obiettivo. Che non vuol dire allora posso scrivere la mia persona specifica anche se siamo in no contact. Dipende, anche lì dipende. Una cosa che mi chiedete molto spesso è quando sto manifestando una persona specifica e magari siamo in no contact. Posso cercarlo, posso scrivergli. Fate come vi pare. Dipende. Dipende da come vi sentite. Se lo state facendo solo perché non vedete risultati nella 3D e quindi volete ottenere qualcosa vi consiglio di non farlo. Se lo fate invece semplicemente perché vi viene spontaneo e anche se quella persona non dovesse rispondervi non ve ne frega niente perché siete tranquilli in quel caso lo potete fare. Fate quello che sentite e fate quello che sapete che vi fa stare bene. Questa è l'unica regola tra virgolette. È l'unico modo effettivamente per riuscire a manifestare quello che vogliamo super velocemente e super facilmente. Perché la manifestazione e lo ripeterò ogni singola volta e non mi stancherò mai di dirlo è super facile. È la cosa più facile del mondo. Perché se io adesso mi metto qui a spiegarvi come si respira non ci capite niente. È lo stesso discorso con la manifestazione. È una cosa che facciamo spontaneamente come respirare. Cioè non vi serve sapere esattamente come funziona l'apparato respiratorio per poter respirare. Allo stesso modo non vi serve sapere esattamente precisamente tutto quello che c'è dietro alla manifestazione per poter manifestare. Quello che vi basta sapere è che dovete seguire il vostro istinto dovete seguire le vostre sensazioni. Che cosa mi fa stare bene? Che cosa sento che mi può avvicinare al mio desiderio? Che cosa sento essere la cosa giusta per me? Seguite quella strada. Quelle sono le azioni ispirate non le strategie non le tattiche non ci fanno niente con le strategie e con le tattiche non si va da nessuna parte ah non gli scrive non lo cerca per tre giorni non si va da nessuna parte fate quello che sentite giusto per voi e non potete sbagliare questo è il modo più facile e veloce vi ripeto per manifestare non ci sono strategie che tengano quando si parla di questo perché la manifestazione è una cosa naturale e soprattutto è una cosa che può avvenire in modi sorprendenti il che vuol dire che non dobbiamo stare lì a calcolare ogni singolo passo che dobbiamo fare per arrivare a noi basta guardare l'obiettivo finale quando noi guardiamo dritti verso l'obiettivo finale e abbiamo dentro di noi la consapevolezza che lo raggiungeremo tutto il resto viene da sé viene in maniera spontanea viene in maniera naturale ve lo assicuro godetevi il momento presente divertitevi fate le cose che vi piace fare che vi appassionano e che vi fanno stare bene nel momento presente e vi assicuro che tutti i vostri desideri si realizzeranno super 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 velocemente detto questo vi ringrazio per aver seguito questo video vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare anche un like nella descrizione del video trovate gli audio subliminali e le meditazioni guidate con le affermazioni i percorsi di coaching che si possono fare con me e il diario della gratitudine detto questo vi mando un bacio enorme e ci vediamo la prossima settimana grazie a tutti